L'Ordine a Polis L'Ordine a Polis L'Ordine a Polis Il Consiglio? Ah, beh Tutto è stato purificato dal fuoco della rivoluzione Che piacevole sorpresa Colonnello Miller O almeno Quel che rimane di lei Artyom Momento E' questo che può essere? L'ingegnoso Giovanni Dimmi Artyom Salvatore della meta No, fermatelo! Non avere paura Non ce n'è motivo ora Non ce n'è Ed è così che il tuo papà ha sconfitto i nemici e ha salvato la metro. Il mio papà era coraggioso. Il più coraggioso di tutti, perché non aveva paura di affrontare le cose che non capiva. E dove è andato il tetro, mamma? È andato via, in un posto sicuro. Ma ha promesso di tornare. E dove è andato il tetro. 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 E dove è andato il tetro.